Il derby della capitale deromanizzato e Inter e Juventus saranno le partite della settimana. Stasera all'Olimpico Lazio e Roma rischiano di farsi male a vicenda e domenica nel derby d'Italia potrebbero fare altrettanto Inter e Juventus. Lo scontro di San Siro è stato etichettato come un duello tra Lukaku e Ronaldo, ma ci sarà ben altro. Tornerà a Chiellini, per esempio. Il Milan lunedì a Cagliari con Ibrahimovic. La squadra di Pioli affronterà un avversario che non vince da 11 partite ed è privo di Nandes. Penseranno ai posti in Europa il Napoli con la Fiorentina, l'Atalanta con il Genoa, il Sassuolo contro il Parma e il Verona che sarà a Bologna. L'Udinese sul campo della Sampdoria cercherà punti importanti per tenersi lontana dalla lotta per la salvezza. In coda sono impegnati il Crotone che affronterà un benevento privo di schiattarella e il Torino che senza rincon se la vedrà con lo Spezia. Battaglia su tutti i fronti, insomma.